Per quanto riguarda il suolo, questi sono i componenti, io sono Marco Di Legginio e i contenuti della presentazione riguardano sostanzialmente quanto si è detto a Copenhagen dove è andata la collega Antonella, che non è potuta venire. Dunque il quadro di riferimento è questo, grossomodo, che l'NRC Soil, diciamo che prima del 2007 faceva capo all'Agenzia Europea, dopo il 2007 fino alla fine dell'anno scorso è passato a JRC, diciamo che è uno degli NRC particolari, forse l'unico, questo perché sostanzialmente la JRC era già depositario dell'European Soil Data Center. Quindi alla fine del 2017 c'è stata questa light review anche per l'NRC Soil e tutte quante le competenze sulla tematica suolo sono ripassate all'Agenzia Europea, inclusa la sua contaminazione, che tra l'altro era l'unica affrontata prima del 2007, cioè nel senso che comunque quando era tutto in capo all'Agenzia Europea prima del 2007 si parlava soltanto di contaminazione dei suoli, mentre quando è passato a JRC si è cominciato a parlare anche di altri tematismi, cioè tipo il carbonio organico e tutti quanti gli aspetti relativi al suolo. E' comunque appunto rimasta questa stretta collaborazione tra l'Agenzia Europea e la JRC, è stato fatto poi nel frattempo dal JRC è stato fatto un working group sui suiti contaminati di cui JRC continua ad avere la leadership e il JRC stesso poi coordina la partecipazione del partnership della FAO. E quindi diciamo che essendo un po' uscita fuori dal contesto JRC, diciamo che la partecipazione a meeting, a incontri dovrebbero essere in qualche modo avere un budget extra e io netto. Poi queste sono state grossomodo le altre attività di cui si è parlato a Copenhagen, questo è il Wiki che è un inventario delle politiche del suolo negli stati membri, che appunto la Commissione Europea attraverso il working group sui suoli sta predisponendo per il lavoro di costruzione di una possibile nuova strategia europea sul suolo. Ecco, è importante dire che il suolo non avendo una direttiva alle spalle, diciamo non ha una strategia che è stata ritirata definitivamente quattro anni fa, non ha obblighi anche di consegne dati e quant'altro. Quindi queste sono, diciamo che ci sono tanti gruppi di lavoro, oltre a Ionet, come appunto questo gruppo di esperti istituito presso l'Unione Europea per vedere e vagliare eventuali strategie per una nuova direttiva, proposta di direttiva. C'è appunto questa partnership globale sul suolo che è stata istituita nel 2012 presso la FAO, appunto l'Italia ha aderito creando un apposito gruppo di lavoro di cui fanno parte membri di ISPRA, del CREA, dell'università, del CNR, che poi si è ramificata attraverso a sua volta partnership europee, asiatiche, insomma è abbastanza complessa. E infine ci sta appunto questo lavoro sulla land degradation, neutrality, che era un progetto, inizialmente era un progetto fatto per la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità della desertificazione, ed è relativo poi alla definizione del target 15.3 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che ha coinvolto 115 paesi. E poi di fatto questo aggiornamento della land degradation neutrality è entrato un po' in quegli indicatori che vengono aggiornati ogni quattro anni per conto della Convenzione. E infine poi appunto c'è la realizzazione del SOER con l'implementazione della rete di monitoraggio sui suoli, che attualmente appunto non esiste, cioè non esiste né a livello italiano, esiste a livello europeo attraverso dei progetti tipo Lucas, che appunto raccoglie dati sui suoli, è l'unica campagna di monitoraggio europea sui suoli. Quindi queste sono sostanzialmente invece qui sono tutti quanti i contributi che abbiamo dato sia anche appunto a gruppi esterni, a Ionet. Quindi ha rivisto questo indicatore sui siti contaminati per la raccolta appunto all'interno dell'Unione Europea, ha partecipato alla definizione dell'indicatore e ha fornito i dati nazionali della mia rete referenti sui siti contaminati del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente e poi ha curato questo report del JRC che sarà pubblicato entro fine anno. Ha trasmesso, quando c'è stata la richiesta nel 2010 dei dati da parte del JRC, ha trasmesso, appunto è stata una richiesta sporadica a contratti quanto avviene per esempio per le acque, i dati relativi a questi due indicatori sul suolo, l'erosione idrica e il carbonio organico. Ha risposto, ha fatto un quadro delle politiche a giugno del 2016 insieme al Ministero e abbiamo inviato questo questionario al gruppo di esperti sui suoli a dicembre del 2017 e poi ha partecipato anche alla realizzazione di questa carta nazionale del carbonio organico che, diciamo, rientrava tra i compiti che si era prefissata alla Global Sole Partnership e questa carta è stata poi presentata appunto l'anno scorso in occasione della Giornata Mondiale sul Suolo e poi appunto per quanto riguarda la degradation neutrality ha consegnato il report a settembre del 2015 e sta partecipando nelle giornali di Copenaghen si è parlato anche della possibilità anche di rivedere l'UCAS implementandolo con eventuali indicatori e anche le metodologie insomma. Il problema che si ha in Italia è che appunto oltre al fatto che non c'è una direttiva anche le competenze sul suolo sono disperse. Sono disperse e generalmente fanno riferimento agli assessorati dell'agricoltura e il sistema è questo, il sistema per la protezione dell'ambiente non ha dati al di fuori della contaminazione e del gruppo che si è creato per il consumo di suolo non è che abbia dati. L'unica agenzia è l'ARPA Veneto che in compenso è un'agenzia che fa realmente un monitoraggio sui suoli all'interno della propria regione. sui siti contaminati sempre. Però invece il vento raccoglie proprio... Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, esatto. In qualche modo hanno spinto il Ministero ad agire perché se avessero questi quadri di sintesi e quindi anche però un monitoraggio è un po' più spinto. Esatto. Quindi per questo anche quello che veniva detto stamattina del eventuale coinvolgimento di regionali secondo me è un aspetto importante e utile anche per quanto riguarda il suolo. Proprio perché è vero, se ne è anche discusso spesso all'interno del sistema, però magari può essere un modo per iniziare quantomeno. Certo. Anche perché... Certo. Certo. Quello sì. Però ecco, uno dei punti di cui si è parlato a Copenaghen era anche la rivedere Lucas, rivedere le metodologie di laboratorio. Quindi anche cose abbastanza... Sì. E siccome per esempio l'Alpamento non c'era un laboratorio che funziona ottimamente potrebbe essere una spinta in più. Quindi queste sono un po' le opportunità critici insieme. Quindi la proposta di una direttiva c'è sempre in ballo, ma insomma è ancora lontana dal veder la luce. C'è questo problema ovviamente che viene conseguenziale che è l'armonizzazione delle informazioni sul suolo a livello europeo e questa implementazione che ho appena detto della bancata di Lucas. E parallelamente appunto la realizzazione di una rete nazionale sui suoli gestita da ISP e SNPA come possibilità di creare esatto la redimono di raggio europea. Grazie Marco. Grazie a voi. E se Michele vuoi chiudere tutto il uso del suolo... Grazie a voi. Grazie a voi.